Lavoro nel cinema da molti anni e in tutti questi anni ho sentito a ripetersi di un fenomeno nel cinema mondiale ma soprattutto nel cinema italiano. Il fenomeno è quello della clonazione o, come detto in gergo, del filone. Che cosa accade? Ogni volta che c'è un film di un certo successo che riscuote i consensi del pubblico, immediatamente nascono una serie di film che vorrebbero essere gemelli di questo film ma che in realtà sono dei bastardi e se per caso uno di questi bastardi ha anche un suo piccolo successo particolare, nascono i bastardi dei bastardi, tutta una serie di film in cui l'invenzione, l'originalità viene completamente a perdersi, soprattutto quando il primo film, il capostrivile di questa cosa, invece ha avuto successo proprio per originalità, per il ritmo particolare, per l'invenzione, per una interpretazione suggestiva. Più è accaduto questo, più nasce tutta una serie di epigoni, man mano sempre più piccoli, sempre più squallidi, sempre più ripetitivi. Ho assistito a questo filone da quando ho cominciato la mia carriera, dai musicarelli, i film tratti dalle canzoni, poi i pepli, cioè i film mitologici copiati dai grandi film americani. Veramente c'era un illustre precedente. Noi nei primi anni del novecento abbiamo fatto un film molto importante che si chiamava Cabiria di Pastrone e che ha insegnato a tutti come si fa un colossal, ma subito dopo, dovuto anche alla scarsezza dei mezzi, abbiamo ripiegato negli anni cinquanta e sessanta su questi pepli copiati dagli americani. Poi abbiamo fatto un filone nostro con tutti, come dicevo prima, sottogeneri, addirittura mescolando gli eroi contemporanei agli eroi antichi tipo Macisse contro Sansone, Ercole contro Mandrette. Subito dopo ci sono stati i western, i famosi western spaghetti che hanno avuto la grandezza di Sergio Leone e poi tutta una serie dapprima di interessanti copiature e poi dei titoli completamente assurdi. Poi arrivano i polizotteschi, quelli che io chiamo gli impegnati ombelicali, i film sulla mafia, poi la piovra, poi la international connection e poi i film tratti da Gomorra. Gomorra è un importante film fatto da Matteo Garrone che ha avuto un grande successo, tratto dal romanzo di Roberto Samiano che ha generato una serie televisiva che si chiama Gomorra che ha avuto un grande successo. Da questo grande successo Marco D'Amore, insieme alla cartoleia, ha pensato di elaborare qualcosa di assolutamente nuovo, cioè come la sua definizione è un ponte fra la quarta serie e la quinta futura serie. In mezzo c'è un film che servirà a portare gli spettatori televisivi al cinema e gli spettatori del cinema a vedere le serie televisive. Un esperimento quindi importante che è stato realizzato senza badare a spese, con intelligenza e con un successivo fascino dovuto proprio dal fatto di Gomorra. Dispiace però che Marco D'Amore, un attore che abbiamo apprezzato sia come regista, sia proprio come carattere, come si è sempre presentato nella serie televisiva, e come ha dato un impulso al suo personaggio di Ciro, questa volta cade nella trappola dell'autorialità. Cioè quello che voglio dire è che si fa del male da solo, perché quello che era una caratteristica del personaggio di Ciro, caratteristica molto importante, di avere una sua straordinaria fissità che era praticamente il risultato di una sua desolazione morale e anche di una sua volontà assoluta, ferrea, che gli dava questa determinazione e questo sguardo che era profondo ma nello stesso tempo come se non vedesse nessuno e che quindi è stato sicuramente una delle chiavi del suo successo proprio per questa interpretazione originale e successiva. Qui nel film ne abusa. Addirittura abbiamo dei momenti che è catatonico, cioè dei momenti in cui questa sua capacità, questa sua maschera diventa troppo rigida e come davvero se lo imprigionasse e se lo costringesse a ripetersi in una maniera tale in cui i suoi sentimenti non traspaiono più, rimane solo questa immagine fissa che a lungo andare in un film di un'ora e mezza, quasi due, stanca. Purtroppo accade molto spesso che l'attore, che è anche regista, perda per un momento il controllo di se stesso. Forse non c'è più la capacità di vedersi fino in fondo con critica, quasi con cattiveria. Purtroppo questo nuoce al film, anche perché l'impianto del film, al di là della trovata scenografica, di trasferirlo addirittura nel nord Europa, quindi in alcuni paesaggi inediti e sotto gli aspetti suggestivi, in realtà poi manca di forza perché in questo connubio di mafia, camorra, camorra connection, piovere, gomorra, ma in questo connubio di cose a un certo punto è come se si perdessero i confini e i contorni, si perde l'epicità dei personaggi. Non a caso mi è venuto in mente un paragone con un altro film italiano che ha avuto molto successo, interpretato da Favino, Il traditore, diretto da Bellocchio, in cui si conserva l'epicità del personaggio, si riesce a dare una dimensione di forza che non è affidata soltanto all'attore ma a un contesto che dà una realtà concreta, che dà il senso disperato della violenza. Qui invece, con tutto il rispetto, giustamente vengono definiti magliari, i banditi napoletani che sono al nord e in realtà hanno un aspetto e un'area da magliari. E questo lo dico senza fare un torto al famoso film I Magliari, il film di Francesco Rosi del 59 con la sceneggiatura dello stesso Rosi e di Suso Cecchi d'Amico. Ora, io capisco molto particolarmente questo film anche perché devo fare una lode particolare per Giuseppe Aiello che interpreta il piccolo Ciro da bambino e anche per Martina Attanasio che ha la freschezza di una disperata come possiamo dire, stellina di quartiere. Ambe due queste figure, come altre figure di contorno, sono realizzate con poesia, con attenzione e con forza. Io le apprezzo particolarmente perché ho avuto anche io un'infanzia in un quartiere particolarmente bene. Mi riferisco a Trastevere, anzi, come diciamo noi romani veri, a Trastevere nel dopoguerra. Quindi conosco la rabbia, la disperazione e conosco la voglia di riscatto che per me fortunatamente sono state le borse di studio e la laurea. Per molti miei compagni di infanzia, fratelli veramente di vicoli e di rabbia, purtroppo invece sono stato il ferro, la pistola, e poi un re Bibbia o Regina Celi, le carceri romane. Voglio raccontarvi un episodio che sotto certi aspetti mi ha richiamato proprio il film L'Immortale quando parla dell'infanzia del piccolo Ciro di Marzio. Io mi trovavo a Trastevere, avevo avuto 8-9 anni e il mio mito era Hermilord, cioè un guappo, un er più come si dice a Roma, cioè un bullo del quartiere che vestiva sempre di bianco. Aveva una Stutterbaker, una macchina americana straordinaria per l'epoca, anch'essa bianca, che parcheggiava di traverso nei vicoli e nessuno poteva passare o se passava doveva strisciare lungo il muro per non guassare, toccare e in qualunque maniera contaminare questa sacra e straordinaria macchina che era proprio l'esempio, il simbolo della potenza, della ricchezza e della bellezza del milordo. Io da bambino lo guardavo affascinato perché tutti lo rispettavano, tutti si inchinavano al suo passaggio, un suo gesto e immediatamente il camminare riportava le cose, le ragazze lo guardavano ammirate, e quindi era il mio eroe. Mentre invece mio padre era un modesto impiegato finito a Trastevere per le vicistudine della guerra, quindi anche fuori contesto, diciamo così, perché mio papà apparteneva a una famiglia diversa da quelle che orbitavano per Trastevere abitualmente. Aveva un posto fisso, uno stipendio, era una persona rispettata, però ai miei occhi questa persona rispettata era rispettata dai borghesi, non era rispettata dai delinquenti come il milord che girava per i vicoli di Trastevere e ha tanto e sicuro di sé. Quindi io quasi quasi mi vergognavo di mio padre, dico la verità. Finché un giorno mio padre è tornato a casa molto avvilito, mi ha messo a sedere sul tavolo della cucina, questa piccola cucina buia che avevamo, e mi ha detto che devo farti un discorso molto serio. Purtroppo, figlio mio, dopo la quinta elementare che stai frequentando, non potrai andare oltre nella scuola, perché oggi sul tram mi hanno borseggiato e mi hanno rubato tutto lo stipendio, per cui i soldi che la mamma ha messo da parte per farti studiare ci servono per poter andare avanti. Mi dispiace, papà ha fatto il possibile per farti studiare, tu lo meriti, ma non possiamo permetterci. Io devo dire che non è che la cosa mi è dispiaciuta molto. I miei infami e simpaticissimi amici, ai quali volevo tanto bene, già lavoravano. Nessuno, digno di rispetto, li conoscessi fra i miei amici andava a scuola e quei pochi che ci andavano scappavano dalla finestra ed erano dei discori che venivano sospesi. Insomma, io quasi quasi con i miei diplomi e con i miei premi mi sentivo molto a disagio, anzi, più volte ho fatto a botte proprio per difendermi dal fatto che ero una femminuccia studiosa o cose di questo genere. Sei uno che va bene a scuola, sei uno che studia, sei uno che legge, come se fossero degli insulti. Quindi fortunatamente ero alto, magro e scattante e di conseguenza sapevo difendermi. Però la cosa mi pesava, quindi non andare via scuola quasi quasi non era un grande dramma. A quel punto, mentre c'eravamo tristemente intorno a un piatto di minestra, hanno bussato la porta. Mia madre è andata ad aprire ed è tornata e ha detto a papà che c'era Spartacomuzzi che voleva parlargli. Mio padre ha alzato la testa e ha detto che non lo conosco, non so cosa vuole. Mamma dice che è tornata di là e poi è tornata di nuovo e ha detto che sta insistendo, dice che la deve vedere assolutamente. Allora mio padre si è alzato e di là c'era Milordo. Io non savo neanche che si chiamasse Spartacomuzzi. C'era Milordo con il cappello in mano che quando ha visto mio padre gli ha detto buonasera Sor Francesco. Sor è un attributo, sarebbe la contrazione di signore, è un attributo di grande rispetto a Trastevi e gli dava del voi, non del tu. Buonasera Sor Francesco e scusatemi se vò disturbato. Mio padre gli ha detto per carità di cosa si tratta? Ecco, uno dei miei ragazzi ha trovato questo e ha mostrato a mio padre il portafoglio. Voi probabilmente l'avete perduto sul tram. Uno dei miei ragazzi l'ha trovato, abbiamo visto che era vostro e sono venuto a riportarlo. Mio padre ha preso il portafoglio e ha detto grazie. volete controllare? Mio padre ha detto non c'è bisogno, mi fido. Il Milordo si è rimesso il cappello e ha detto saluti anche da mamma mia ed è uscito. Io sono rimasto abbacinato da questo fatto. Il Milordo col cappello in mano davanti a quell'ometto che io ritenevo che fosse mio padre. Poi ho saputo che mio padre aveva aiutato degli ebrei in fuga, aveva fatto ottenere dei sussidi alle vedove di alcuni caduti delle fosse ardiatine fucinati dai tedeschi. Si era preoccupato di far avere una tessera del grano durante la guerra per il grano e per la pasta ad alcune vecchie, signore che non rimaste senza nessuno. Mio padre nel vicolo era un eroe e una delle ragioni per cui io potevo fare un po' il gradasso e mi difendevo dagli altri era che anche per rispetto di mio padre non mi confiavano di botte. A questo punto ho capito come esiste una qualità più grande che quella della retorica della violenza. Esiste la qualità dell'eroe quotidiano, qualcuno che ogni giorno si sacrifica in silenzio e perché ti vuole bene, lavora e cerca di aiutarti a crescere. Grazie.